L'indirizzo dell'amministrazione è sempre stato chiaro. La refezione è indispensabile, la refezione è un servizio educativo, la refezione va garantita e va tutelata. Dopo le vacanze di Natale riprenderà con alcuni giorni di ritardo la refezione scolastica comunale nelle scuole della prima municipalità. La commissione consigliare scuola ha convocato l'assessora all'istruzione, Anna Maria Palmieri, per sollecitare un rimedio al problema e per vagliare le responsabilità e gli ostacoli che hanno causato questo ritardo. Chiediamo all'amministrazione di provvedere immediatamente, c'è stato chiarito che entro massimo 14 giorni dovrà esserci una soluzione proprio per le regole ancora in vigore regate alla gara d'appalto della refezione scolastica e chiediamo anche nel frattempo e quindi nell'emore di questa giudicazione che possa partire quindi nella ditta di refezione della prima municipalità di trovare soluzioni altre affinché in questi giorni i bambini possano mangiare. Ci aspettiamo risposte e ringraziamo anche l'amministrazione per essere immediatamente intervenuta anche a questo tavolo insieme a tutto il Consiglio. Il problema purtroppo si è posto in prima municipalità perché il disciplinare di gara prevede che una ditta si possa presentare per più lotti e aggiudicarsene uno solo. Di conseguenza dopo una valutazione di non congruità in uno dei lotti la ditta ha il diritto di essere valutata per l'altro lotto per cui si è presentata, per il quale ha presentato ovviamente un'offerta diversa. Questa cosa poteva capitare dappertutto e è capitata in prima perché la prima era l'ultima diciamo dal punto di vista della capienza economica ad essere valutata e quindi aggiudicata. Io la dico con molta pagatezza, non è questo il momento di individuare le colpe e se ce ne sono sicuramente l'amministrazione le valuterà. Questo è il momento in cui bisogna assolutamente che chiunque abbia la gestione di questa vicenda faccia in modo che essa si risolva al più presto. È l'indirizzo che il sindaco, la sottoscritta e mi auguro anche la municipalità invece di fare polemiche e parlare di complotti assumono in questo momento difficile.